Buongiorno, ti voglio raccontare un'altra testimonianza del missionario Leonardo Navarra che lavorava in Africa. Lui aveva 500 bambini, lavorava con 500 bambini. Lui ci raccontò che una volta non avevano abbastanza soldi per comprare il miglio per i bambini, ma pregavano. In Sicilia c'erano tre credenti che si erano incontrati e sentirono nel cuore di mandare un piccolo aiuto al fratello Leonardo in Africa. Presero 10.000 lire ciascuno e si chiedevano come gliela manderemo? Perché non era facile la spedizione dalle lire all'epoca a mandarli in un paese straniero. Così pensarono nella loro semplicità, nella loro fede, di metterli in una lettera. E misero questi 30.000 lire nella lettera con scritto alcune ricche. Caro fratello, abbiamo sentito nel cuore di mandarti questi soldi per l'opera del Signore. pregarono su quella lettera e la spedirono. Il fratello Leonardo mi raccontò che quando gli arrivò la lettera in Africa c'erano anche altre persone mentre aprì la lettera e c'erano dentro 50.000 lire. Sul foglio dove erano scritte le pocheriche diceva caro fratello abbiamo sentito nel cuore di mandarti queste 30.000 lire. Ma lui ne aveva preso 50.000. E sapete una cosa? Avevano bisogno proprio di 50.000 lire, del valore di 50.000 lire, per comprare il miglio per i bambini. Dio è grande e Dio sa moltiplicare molte volte il poco che c'è. Grazie, Dio vi benedica.